... Riaprire Piazza Castello al traffico... Favorevole... Dipende... Favorevole... Sarai contrario perché mi sto godendo il silenzio che è alla piazza adesso... Se la sistemano sarei contrario... Cioè è fondamentale che la zona rimanga chiesa dal traffico... Secondo me riaprire il traffico sarebbe un errore... Se la lasciano così con l'asfalto e senza una ristrutturazione sarei quasi favorevole... Non se ne parla niente... Per Milano dovrebbe essere chiusa... Non mi sembra che sia più animata da quando l'hanno chiusa al traffico... Beh è vero che è meno frequentata rispetto al passato... Però dire che deserto non è giusto... Quanto c'è bel tempo la gente c'è e come... È bellissimo camminare attorno al castello anche per un po' meglio di sole... Cioè adesso camminare su un asfalto rovente a luglio... Non mi sembra una grande soluzione per valorizzare un'area pedonale... Ma poi comunque è un luogo dove la gente si incontra, cammina... E quindi mettere del traffico in mezzo secondo me sarebbe un rovinarla... Beh bisogna emettere molte più attività per attirare le persone a passeggiare in quella zona senza la macchina... Locali, bar, attività serali... Cioè le zone pedonali in Milano Cento servono per tutti quanti... Anche le biciclette, pedoni vari... Sempre più biciclette, più corsa, più running, più sport... Va bene, grazie... Ciao 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 Ciao